Questo sarei io nel mondo degli anime. Datemi ancora una scusa del perché dovrei vivere nel mondo reale a questo punto. Sembro già un'andera degli ODS. Grazie ancora a Marika Inoue che al Vinadio Comics mi ha fatto questo. Questo insieme al poster di Monkey e di Luffy che mi sono appeso subito in camera e a questo libro di una scrittrice molto molto giovane del 94 sono il tesoro che mi sono riuscito a recuperare appunto al Vinadio Comics. Ma non sarà di questo che parleremo in questo video. Anche perché il Vinadio Comics è una fiera abbastanza piccola che in pochi conoscono e non è successo nulla di che alla fine. Sì, dei buoni cosplay ma non ho potuto neanche riprendere la gara perché stavo lavorando stavolta. Il cosplay del Dottor Stein è andato un po' meglio anche perché ho scorciato la parrucca non è più a caschetto Niente di che Volevo Ecco Non so, volevo registrare ma non so se parlare di qualcosa che riguarda gli anime e i mango o se fare un vlog delle mie vacanze al mare anche perché dovrei recensire il camping in cui sono stato. E poi ci sono anche tutti gli altri mango anime che vi ho fatto di cui vi ho parlato Oltretutto vi ricordate i miei vecchi video di quando parlavo dei dere dere, no? Prendeteli, guardateli Avete fatto? Bene! Adesso andate di sotto nel link in descrizione o nel link che vi apparirà qui o lì o là o lassù dipende da dove deciderò di metterlo del video in cui si parla sempre di dere dere ma che non l'ho fatto io Non so se prendere questo video come un messaggio per dire sei un fallito e non fare più video su YouTube oppure non sai una sega è meglio che lasci il campo a me Per la carità E rimane la mia idola Anzi, questa mi spinge ancora di più di impegnarmi di muovermi a riuscire a passare da Windows XP a Windows 7 così da riuscirmi a 8 così da riuscirmi a scaricare questo benedetto programma di editing e cominciare a fare delle cose un po' serie Però io faccio quello che posso non posso neanche usare Movie Maker Oh vabbè Quindi comunque il concetto è questo Lascio a voi la scelta Volete che vi parli di anime e manga di quelli che dovrei recensire o preferite che parli faccia il vlog delle mie vacanze al mare A vostra discrezione Quindi io e il mio alter ego vi salutiamo Mi raccomando commentate subito perché mi servo il vostro aiuto se no non so proprio cosa fare Ciao Ciao